In questo video tutorial andiamo a vedere la domanda di utilizzazione per i docenti sovrannumerari, cioè che chiedono il rientro nella scuola di presente titolarità. Prendiamo il caso della scuola di secondo grano, andiamo alla compilazione della domanda e una volta entrati nella compilazione della domanda facciamo accedi e andiamo proprio a inserire la domanda di utilizzazione provinciale e facciamo compila. La prima sezione che incontriamo è il punteggio spettante per l'utilizzazione, nel mio caso sono 145 punti, come si fa a avere questo punteggio? Basta prendere il punteggio del gradatore interno dell'istituto e aumentarlo dell'anno in corso più la continuità, poi il punto 2, 3, 4, 5 e 6 nel caso specifico di chi è un perdente posto e chiede rientro di titolarità va messo o no in tutti questi punti della sezione C. Passiamo alla sezione D delle precedenze, c'è il punto 7 e il punto 8 che sono precedenze universali per i non vedenti e per gli emodializzati, mentre il punto 9 è riferito alla 104 su se stesse all'articolo 21 della legge 104, c'è chi ha una invalidità superiore ai due terzi. Il punto 10 è anche chi non ha la 104 ma ha bisogno di cure continuative, in questo caso sceglierà il comune per cui è in cura, c'è un istituto di cura che avrà un punteggio aggiuntivo solo su quel comune eventualmente. Poi c'è anche la precedenza riferita nel punto 11 alla 104, articolo 33,6 su se stessi in uno stato di gravità, solo nel comune di residenza. Poi c'è il punto 12a che è riferito alla 104 per l'assistenza al figlio disabile, il punto 12b è riferito all'assistenza del coniuge o parte dell'unione civile, il punto 13 invece all'assistenza al genitore quando si è figli referenti unici. Il 14a invece è la precedenza per i figli di tempo tra 6 anni, il 14b solo per l'interprovinciale dunque non riguarda questa parte, mentre il punto 15 è eventualmente per l'assistenza di un parente o affine entro il secondo grado, oppure il terzo se questo parente affine non ha il coniuge, i mancanti di coniuge, mentre il punto 16 è riferito al personale cessato dal collocamento in ruolo. Poi importantissima è la sezione E perché c'è l'utilizzazione riferita al rientro nella scuola di precedente titolarità, si sceglie il plesso, la scuola nel mio caso essendo io un titolare al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria dovrò scegliere nel caso fossi stato sovrannumerario proprio la scuola per il rientro e dunque avrei messo liceo scientifico Leonardo da Vinci come priorità assoluta di rientro in tale scuola, avrei confermato e dunque mi sarei ritrovato nella sezione E il codice meccanografico del liceo di titolarità e per cui avrei avuto precedenza in quel caso. Poi c'è la sezione G2 dove ci sono altre indicazioni che però sono indicazioni più che altro per i docenti che si trovano in uno stato di esubero provinciale e dunque non riguarda chi è stato sovrannumerario e chiede il rientro nella scuola di titolarità e poi una volta compilata la parte della sezione precedente si va eventualmente al tipo di posto alla sezione E dove nel caso specifico è un posto normale, si chiedono se si vogliono articolate su più scuole o se si fa la preferenza ai corsi serali o se si richiedono anche solo per le classi di concorso che sono in esubero altre classi di concorso ma molto spesso non viene compilata perché non ce n'è necessità. Poi si fanno le preferenze come prima preferenza assoluta bisogna chiaramente inserire la scuola di precedente titolarità, ancora una volta dunque nel mio caso il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria. Poi eventualmente si possono mettere altre scuole sempre dello stesso comune o vicinorio per avere una utilizzazione migliorativa. Spero che seguiteci ancora sul nostro canale YouTube e sul sito di Tecni nella Scuola www.tecni nella scuola.it perché faremo altri video.